Zia Assunta, non ho detto che Jerry Lewis tiene l'ombrello che mantiene il fratello, ma che Shari Lewis fra un po' viene con zampetta ad agnello. Francesca! Zia, devo riattaccare, qui sta scoppiando un temporale. Il reperto si può definire canino. Ora per 20 punti qualcuno mi sa dire che cosa c'è sotto la suola della mia scarpa. Credo che la signorina dalla grande chioma abbia premuto per prima. Castagna, per caso, le ha lasciato un regalino? Shh, 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 Francesca, credo che volesse tenerlo segreto perché l'aveva nascosto sotto il mio tavolo. Se riesco a togliere l'asciugamano dalla borsa della palestra posso pulire... Oh, ma quelle... Quel quadro non le sembra un po' storto? Francesca, vuol provare per favore a tenere le budella di quel cane sotto controllo? Ma sì, a vederla così è la cosa più disgustosa di questo mondo. Ma sparsa su delle pianticine crescono pomodori grandi come zucca. Tenga qui, Niles. Ci penso io alla porta. Sì, ma intanto il signor Sheffield gira per la casa i calzini e io devo pulire un altro regalino di castagna davanti al suo... Studio. Oh, santo cielo, ma è Shari Lewis! Buongiorno. Oh, l'ho visto che ha mosso le labbra! Oh, ciao, zampetta d'agnello. Sono Francesca Cacace, bambinaia italiana, ma tua ammiratrice da che sono in America, cioè da dieci anni or sono. Da quanto hai detto? Rifatti bene i conti, il tuo calendario va avanti. Io ho soltanto sei anni. Ma se mia zia aveva ancora il televisore in bianco e nero? Perché era una circhia. A colori costava. Oh, d'accordo. Hai soltanto sei anni. Pure mia zia gli anni li con te come fai tu. Shari, benvenuta a Maxwell Sheffield. Molto lieta. Che fa, signor Sheffield? Lei snobba la diva, la famosa zampetta d'agnello. Oh, ma certo. Maxwell Sheffield. Ah, shanté, ma sei proprio strafico. Grazie. Bene, Shari, se non ti dispiace, c'è mia figlia che spasima dalla voglia di conoscervi. Però, che culetto! Zampetta, basta! È bello, elegante, ma è sposato. Per me se nel bosco incontra il lupo cattivo, zampetta d'agnello se lo mangia. Che classe fai? Non vado a scuola. Lavoro per una ladra. Cioè? La padrona. Aprile a questa zucca. Signorina Lewis. Oh, grazie. E a me cosa date? Vado io a prenderti qualcosa. Le preparo un bel perlana on the rocks? Per contratto scelgo io lo sponsor. Non fateci caso. Ciao. E a me cosa date? 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 E a me cosa date?